Noi altri autori che ci occupiamo di narrativa del fantastico, generi che vanno dalla fantascienza al distopico, la fantascienza catastrofica come nel mio caso, ormai se mi seguite mi conoscete, ci facciamo spesso domande su quello che potrebbe essere un presente alternativo a quello che stiamo vivendo o un futuro, un futuro che si sviluppa nella nostra fantasia partendo dalle basi realistiche o molto verosimili del nostro presente. Purtroppo, vivendo nel periodo della pandemia di coronavirus, ed è una prova che pochi di noi si aspettavano di affrontare, perché anche se scriviamo di queste cose, spesso di pandemie, di eventi catastrofici, apocalittici, non abbiamo poi realmente la percezione che possano davvero cadere in questo periodo, nel nostro periodo, nel corso della nostra vita. Però lo stiamo vivendo appunto e presupponendo di superarlo, e questo è una forte convinzione che abbiamo, presupponendo quindi di andare oltre, di vincere la sfida col virus, col covid-19 e di avere un futuro, ci chiediamo come sarà questo futuro. Ma ce lo chiediamo, almeno io me lo chiedo e così altri miei colleghi, nelle piccole cose, non nelle macro sistemi economici che sicuramente cambieranno, magari anche meglio, perché di questo sono convinto, com'è cambiato in meglio a volte il sistema economico mondiale dopo le guerre, per esempio. È stata dura uscire dalle guerre, ma c'è stato un miglioramento economico in alcuni casi, soprattutto nelle guerre diciamo così, dei tempi moderni. Ma noi ci domandiamo dei cambiamenti minori della vita quotidiana, nei cambiamenti della vita di tutti noi, di come sarà, se sarà possibile tornare ad avvicinarci, a sembrarci con molta gente, avvicinarci nei locali, nei cinema, negli aeroporti, nei treni. O se vivremo a lungo quella che è, a tutti gli effetti, una specie di psicosi giustificatissima, del stare appunto a contatto con altri esseri umani. Secondo me è una cosa che ci porteremo dietro a lungo, questo timore di abbracciarci, di stare vicini in un concerto, in un cinema, e secondo me cambierà molto anche la percezione da parte di chi gestisce eventi, di chi gestisce assembramenti umani anche per motivi seri come fabbriche o appunto cinema, già detto teatri. Cambierà molto la percezione e l'organizzazione di queste cose, almeno per i primi mesi, per i primi anni forse addirittura. Mi chiedo poi personalmente quanto incideranno le giuste riduzioni alla privacy personale che stiamo facendo adesso e quanto ce le porteremo dietro quando tutto sarà finito e se sarà possibile tornare a un prima, a un prima che risale poi a due settimane fa, ovvero a un periodo in cui la privacy era tutto sommato garantita o quantomeno avevamo la sensazione che fosse tale, anche se in realtà avendo semplicemente un cellulare in tasca come quello da cui vi sto registrando questo video siamo costantemente tracciati. Però avevamo la sensazione di poterci muovere abbastanza agilmente nell'anonimato, nella libertà di fare cose. Invece adesso che stiamo parlando di introdurre sistemi per localizzare i malati di covid affinché non distribuiscano il contagio, magari quasi sicuramente involontariamente, mi chiedo quando sarà finito tutto questo, quanto rimarrà di questi metodi. Noi siamo in un paese democratico, quindi non siamo nella Cina, non siamo nella Sud Corea che è un paese democratico fino a un certo punto, però almeno a mio parere. Noi siamo in un paese cosiddetto democratico totale, a piena democrazia, tuttavia queste cose, questi precedenti, secondo me lasceranno quel filo di inquietudine un domani che forse non ci faranno vivere proprio così serenamente i primi mesi, o ripeto di nuovo i primi anni del post pandemia, sia per i motivi di prima, per tornare a un contatto umano old style, che secondo me sarà un po' impossibile, sia per questi problemi di, appunto, di tornare a un livello di privacy tale, di essere veramente liberi e volendo anonimi. E sono cose che mi chiedo, e chiedermi queste cose future indubbiamente mi aiuta anche a concentrarmi sul fatto che avremo un futuro e supereremo anche questa cosa. Quindi mi porto un po' oltre, ripeto, un po' una peculiarità di chi scrive, portarsi un po' oltre, o portarsi su argomenti collaterali per analizzare anche il presente o per ipotizzare il futuro. Niente, volevo condividere questi brevi pensieri con voi, l'ho buttato su un video prima di tornare alle mie faccende quotidiane di quarantena. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché secondo me il discorso è abbastanza interessante e potrebbe essere articolato molto più a lungo. Questo è un assaggio, diciamo.